Bella raga, buongiorno, dunque questo è un video speciale che arriva prima del commento della partita di stasera vi ho dato l'appuntamento a stasera dopo la partita, ieri però ragazzi vi voglio ringraziare tutti, tutti, tutti per aver superato i 700 iscritti sono arrivato a 701 per il momento, dunque vi ringrazio dal primo che si è iscritto fino all'ultimo soprattutto ai ragazzi della mia crew, cioè della crew in cui io faccio parte che sono Kartal Curva Nord, che gli faccio gli auguri perché lui invece ha superato i 2000 iscritti dunque complimenti e vedrai che continuerà a crescere perché te li meriti tutti grazie infinite anche a Mickey Viff, mi ha aiutato comunque anche lui a raggiungere questo obiettivo grazie a Cubra, l'unica ragazza competente di calcio a mio avviso, o meglio che ne capisce davvero molto anche se non glielo dico quasi mai perché è interista, no vabbè glielo dico ogni tanto ma non glielo dico spesso se no dopo si monta la testa no comunque ragazzi è davvero brava, Cubra ne capisce e fa delle live davvero eccezionali come quella dell'arena sportiva del lunedì grazie anche a Doc Fra, Scorpione 1981, Danilo Paolillo e vi invito ad iscrivervi a questi canali perché sono oltre ad essere bravi ragazzi sono anche competenti in materia calcistica, dunque chi piace è calcio al di là della fede calcistica che uno segue dunque al di là della squadra che uno tifa vi invito ad iscrivervi perché davvero fanno soprattutto delle... io non tanto faccio live cioè non ho mai fatto live quindi sul mio canale li farò ai 1000 iscritti dunque i 1000 iscritti inserano a fare live, questa è una promessa e comunque loro fanno delle live davvero eccezionali come ad esempio Cubra e Cartal seguono le partite dell'Inter e della Champions League e a proposito di questo arriva la mia sorpresa per i miei 700 iscritti ovvero questa sera vi commenterò, ahimè Real Madrid Juventus sul canale di Cartal Curva Nord dunque collegamento intorno alle 20.40 dunque un 5 minuti prima della partita 20.40, 20.45 poi dipende sempre dalle connessioni maledette e vi invito a tutti a seguire il canale di Cartal Curva Nord questa sera con la live reaction della Champions League e soprattutto di Real Madrid Juventus questo ho detto ahimè perché bisogna essere onesti io ci credo poco ieri sera la Roma ha fatto un miracolo ma il Real Madrid a mio parere è superiore al Barcellona nulla da togliere alla Roma perché per carità di Dio però io credo che il Barcellona ormai sono da un paio d'anni a fine ciclo l'anno scorso uscì contro di noi 3 a 0 lo stesso a Torino poi 0 a 0 in casa è una squadra un po' vecchiotta che va rinnovata a mio parere nulla da togliere comunque all'impresa che ha fatto la Roma vi invito dunque a seguire questa live reaction della Champions League dunque con tutti i protagonisti ragazzi grazie mille ancora per i 700 iscritti e soprattutto grazie alle persone che ho nominato prima Kartal Curva Nord Kubra Intermania Scorpione 1981 Doc Fra Mickey Viff e Danilo Paolillo dunque ci vediamo stasera spero che partecipiate in massa sicuramente sarò preso in giro dal primo all'ultimo minuto però va bene sono i rischi del mestiere e va bene ogni tanto ci sta pure perdere poi è sempre il Real Madrid ragazzi per il momento è tutto ringrazio ancora i 700 iscritti ringrazio dal primo all'ultimo iscritto e sempre fino alla fine ciao a io